Trattare le patologie tiroidee attraverso la termoablazione, questo è il tema al centro dell'incontro svoltosi nella Sala Convegni dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Caltanissetta nel pomeriggio di mercoledì 30 novembre 2016, incontro dal titolo La termoablazione tiroidea, approccio multidisciplinare. Il reparto di chirurgia generale dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta è il primo in Sicilia in cui viene introdotta questa tecnica. Questa è un'occasione oggi per presentare alla comunità medica di Caltanissetta un'arma in più che il chirurgo ha nel trattamento della patologia tiroidea e soprattutto dei noduli tiroidei. Si tratta appunto della termoablazione, cioè la distruzione dei noduli tiroidei attraverso il calore. È una tecnica che non può essere utilizzata in tutti i pazienti, non può essere utilizzata in tutti i noduli, ma in casi selezionati dà dei risultati soprapponibili a quelli della chirurgia, evitando quindi un intervento chirurgico. Questa è una tecnica che in Sicilia è il primo reparto, la prima unità operativa che se ne comincia ad occupare. Chiaramente altre regioni, le regioni che hanno iniziato qualche tempo fa, ma noi siamo i primi, in assoluto i pionieri in questo senso, di questa metodica, di questa nuova tecnica. È una tecnica importantissima perché si possono trattare così i noduli tiroidei che hanno difficoltà in quei pazienti con non indicazione chirurgica o per gravi patologie associate che non determinano, possono determinare nello stesso tempo l'atto chirurgico. Quindi la termoablazione ne determina una riduzione e diminuisce i sintomi compressivi della patologia. Allora, non ha assolutamente limiti di età come tecnica chirurgica. È una tecnica che riduce dell'80% il nodulo tiroideo nell'arco di un anno. Il vantaggio di questa metodica è che si fa in anestesia locale, il paziente nell'arco di poche ore dopo l'intervento di termoablazione laser viene dimesso, è assolutamente privo di complicanze.